Mamma mia guys, let's learn Italian. Emergencies. I need a doctor. Ho bisogno di un medico. I need an ambulance. Ho bisogno di un'ambulanza. I need the fire brigade. Ho bisogno di vigili del foco. I need the police. Ho bisogno della polizia. Immediately. Subito. Subito. Immediately. It's very urgent. È molto urgente. It's very urgent. Help. Iuto. Iuto. Help. Iuto. If somebody is taking your pizza, you can say help. Iuto. Okay. Please help me or help us. Per favore mia iuti. Also you can use this phrase with pizza. Per favore mia iuti. There is a fire. C'è un incendio. There is a fire. C'è un incendio. I'm lost. Mi sono perso. I'm lost. Mi sono perso. O mi sono persa. It depends of you, girl or boy. Yeah. And the last one. There. There has been an accident. C'è stato un incidente. There has been an accident. C'è stato. C'è stato. Un incidente. There has been an accident. C'è stato un incidente. Thanks. The special thanks for Simone that the native speakers help us to improving pronunciation. Yeah. See you next time, guys. Like or dislike. Subscribe. Good luck. Goodbye. Bye.